Buonasera a tutti, vediamo la partita Inter-Cagliari, una bella partita che si gioca a San Siro. L'Inter si gioca a 4-3-3, oggi c'è una novità che è Dalbert a sinistra con Lautaro facendo la punta. E Caliari fa 4-3-3 uguale, vediamo la partita, una bella partita questa sera e vediamo come sarà la partita, si comincia l'armamento fisica, comincia la partita, ha iniziato Lautaro, passa per Politano la palla, Politano va a destra, passa D'Ambrosio, D'Ambrosio all'angola, raggia a Dalbert, Dalbert fa un bel attacco. Vediamo, Dalbert fa un bel cross, un bel attacco di Lautaro Martini, gol! L'Inter fa 1-0! Tutta la squadra a fare l'abbraccio, applausi di Ispaletti, di Ispaletti, del mister che ha provato dal passaggio di Dalbert e un bel attacco di Lautaro Martini. L'Inter fa 1-0 e tutta la tifosa, tutta felice e così Dalbert con la palla si inizia in mezzo, Dalbert con la palla, fa un passaggio a Politano, Politano che fa l'attacco, fa un passaggio a N'angola, che fa un passaggio a Kandreva, Kandreva tira e quasi fa le gole. Quale fa il gole? Un bel attacco che il portiere ha avançato bene e ha preso la palla. Non posso commentare. Ah, dai, dai, dai. Finito. Basta? L'Anto chiama Urva per vedere la partita, se si è gol o no. Il calciatore di Cali ha preso la palla con la mano, ha annullato il gol. Dopo un bel gol di Politano che l'Inter fa 2-0 e così si finisce la partita. Politano fa un bel tiro e si tira bene e fa un bel gol e così l'Inter fa 2-0. Ora l'arbitro fisca, il fine della partita e tutti i tifosi sono felice e l'Inter vince la partita 2-0. Grazie.